ciao a tutti e oggi la nostra ospite è Irene Fakeris che torna su Letture Metropolitane stavolta in Vested Rockcaster non che sia una nuova diciamo versione di lei perché è una delle tante che già conosciamo ma ultimamente c'è questo suo progetto che mi ha molto colpito e per il quale ho avuto voglia e bisogno di intervistarla per saperne di più ciao Irene ciao grazie mille allora il progetto in questione è tutti gli uomini questo podcast allora devo dire che la prima reazione che ho avuto quando e non penso di essere stata l'unica quando hai diffuso la notizia e devo dire che anche Giovanni ha avuto la stessa reazione forse ancora di più di me è stato ah finalmente finalmente c'è qualcosa del genere e ascoltando l'intro mi sono anche un po' ricordata di quel periodo che poi era l'anno scorso sì è stato un po' il periodo di innesco in cui tu hai probabilmente deciso di dare una forma a questo progetto mi racconti un pochino quel quel momento e quella specie di non dico illuminazione perché non è la prima volta che ti sento ovviamente parlare anche di uomini però evidentemente lì c'è stato qualcosa sì io occupandomi di femminismo parlo anche di uomini dal momento in cui ho iniziato a occuparmi di femminismo e questa è già una cosa che sembra poco chiara ma questo è quanto quella è stata la prima volta in cui ho avuto la sensazione che gli uomini stessero ascoltando sono passati dieci anni da quando ho iniziato a parlarne ma meglio tardi che mai cosa è successo era un contesto molto diverso dal solito anzitutto era il 25 di novembre quindi la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e io ero sul palco dell'Alcatraz di Milano per il concerto delle bambole di pezza band che peraltro io seguo da quando ho 15 anni adesso ovviamente è cambiata la formazione invece sono ritrovata sul palco e mi hanno chiesto di fare due minuti di discorso prima di cantare una canzone assieme a loro proprio per dare importanza a quella giornata sottolineare il fatto che fossimo lì proprio in quel momento e io ho pensato moltissimo che cosa dire perché quando hai due minuti ogni parola deve essere pensata e siccome eravamo a un concerto rock e siccome c'erano tantissimi uomini davanti a me io ho detto ok non voglio perdere questa occasione voglio parlare agli uomini anche perché quando parliamo di violenza contro le donne noi dovremmo parlare di violenza maschile contro le donne ne parliamo sempre alle donne e poco agli uomini che in realtà dovrebbero essere i primi interlocutori dato che sono quelli che agiscono questa violenza e quindi io ho iniziato il mio discorso dicendo la cosa più inutile che possiamo dire agli uomini per sensibilizzarli sul tema della violenza contro le donne è esattamente quella che gli diciamo tutte le volte e cioè pensa se fosse tua sorella, pensa se fosse tua madre, pensa se fosse la tua fidanzata e dico che è la cosa più inutile che possiamo dirgli perché gli uomini che sanno comportarsi con le persone che rispettano le donne non hanno bisogno di pensare di avere un legame di parentela con una di loro per mostrare rispetto, ci arrivano da soli, non è utile dire questa cosa allora dico io oggi vorrei dire la cosa opposta, vorrei dire quando pensiamo a chi stupra, chi ammazza, chi molesta pensa se fosse tuo fratello, pensa se fosse un tuo amico perché la verità è che ogni stupratore, ogni molestatore è l'amico di qualcuno e ho cambiato il punto di vista cioè l'ho proprio messa dal punto di vista opposto e io ho voluto reinserire l'audio di quell'intervento nell'intro del podcast perché trovo impressionante come si senta una sala di mille persone che si silenzia cioè all'inizio tu senti la gente che beve birra, fa i commenti eccetera da quel momento c'è un silenzio tombale e io non ci potevo credere cioè avevo davanti tutti quegli uomini completamente in silenzio attenti che per la prima volta forse si sono sentiti dire una cosa che li ha agganciati e quindi poi sono andata avanti con il discorso dicendo che bisogna cominciare a parlarne tra uomini perché uno che molesta ti assicuro che non ascolta me che sono una donna mentre dice non è il caso, ascolta un altro uomo ma questo non significa che sia semplice cioè il fatto che un uomo arrivi a capire che ne debba parlare con i suoi amici non significa che sappia come fare per iniziare quella conversazione è tutto partito da lì ma poi c'è questa cosa no? che in realtà l'uomo ascolta principalmente o in maniera forse anche inconscia più attenta un altro uomo almeno questo è quello che per esempio dice Gasparlini da quando lo conosco anche diciamo un po' vergognandosi di questa cosa lui dice io dico le stesse cose che dicono le femministe a volte le dico anche peggio però sicuramente a me ha ascoltato di più in quanto uomo ed è forse secondo che cosa c'è dietro questo modo questa abitudine perché vale anche un po' per uomini insospettabili tra virgolette nel senso persone assolutamente aperte magari anche al femminismo persone che hanno passato gran parte della loro vita con le donne e poi dopo parliamo anche di questo ma perché effettivamente c'è una validazione maggiore? beh intanto questa cosa non riguarda solo gli uomini nel senso che anche moltissime donne danno più credito a una voce maschile che a una voce femminile ma è normale nasciamo in una società che ci dice che il maschile è superiore che il maschile va tenuto più da conto che il maschile ne sa di più ne capisce di più è più competente lo dicono a tutti e tutte e quindi moltissimi e moltissime preferiscono ascoltare una voce maschile anche inconsciamente cioè io ricordo perfettamente alle prime volte che sono andata dal ginecologo e volevo che il mio ginecologo fosse un uomo questa roba che per me ora è completamente senza senso cioè non vedo proprio il senso di questa cosa eppure io volevo un uomo perché mi sentivo perché pensavo che sarebbe stato più bravo che sarebbe stato più competente perché la società mi ha raccontato sta roba da quando sono nata quindi come dire è trasversale ai generi questa tendenza anche inconsapevole a preferire un'informazione quando ti arriva da un uomo perché pensi che sia più valida dopodiché se stiamo parlando di questi temi e quindi di tutti gli errori che commettono gli uomini culturalmente mi sembra normale cioè comprensibile che preferiscano ascoltare un altro uomo perché si sentono meno minacciati esattamente come se mi devono parlare di razzismo cioè è ovvio che io razionalmente preferisco ascoltare il vissuto di una persona razzializzata perché ha la teoria e ha la pratica insieme e sicuramente vede delle cose che una persona bianca non può vedere ma se devo pensare alla mia coda di paglia che brucia no preferisco che a dirmelo sia un'altra persona bianca perché penso vabbè dai comunque io e te abbiamo fatto gli stessi errori ci capiamo stiamo dalla stessa parte no non mi arriverà la lezioncina da te perché tu sei come me e quindi questa cosa ovviamente trasportata parlando di sessismo è la stessa cosa moltissimi degli uomini che poi ho intervistato ovviamente quando io ho parlato con loro di questo progetto tutti gli uomini dove l'obiettivo è proprio far dire agli uomini quelle cose ad altri uomini tutti hanno detto sì la chiave è questa perché ti assicuro che questo podcast il mio amico non l'avrebbe mai ascoltato se avessi detto tu queste cose ma siccome lo stanno dicendo delle voci maschili se lo sta ascoltando e dato che ormai quelle cose le ha ascoltate sta anche capendo perché deve cominciare ad ascoltare le donne cioè è un passaggio che non possiamo evitare certo e da un certo punto di vista forse è anche un po' una soglia del dolore io credo in alcuni momenti che loro devono affrontare e tu dirai chi se ne frega del dolore del maschio sì da una parte sì però dall'altra sicuramente come abbiamo sempre detto e come tutte le persone che si occupano di femminismi dicono il patriarcato è un problema principalmente per le categorie marginalizzate ma anche per gli uomini e anche per tutta quella parte diciamo emotiva dell'uomo che non è mai stata che non è mai stata ascoltata o curata o anche diciamo aiutata a svilupparsi ecco la metterei più così e questo sicuramente è un discorso che può essere un discorso doloroso ma che forse proprio una sorta di affrontare un trauma no? da un certo punto di vista io almeno l'ho percepita così avendo degli esempi maschili che hanno ascoltato il pot che si sono ritrovati probabilmente anzi sicuramente come i protagonisti del podcast a buttare giù delle mura anche di dolore che hanno circondato la loro diciamo consapevolezza di essere maschi in un certo modo come è andata questa cosa? ovviamente l'avrai percepita anche tu avendoci davanti sì certo tra l'altro vabbè potremmo fare tutta un'altra ora di conversazione sulla mia gestione di tutte le informazioni che mi sono arrivate e la terapia che io ho dovuto fare per gestire il peso di quelle informazioni perché ancora una volta c'è questo carico mentale questo lavoro di cura che comunque alla fine è sulle spalle di una donna va bene un'altra volta parliamo anche di questo però sì io ho fatto più di una domanda che al centro aveva comunque la gestione delle emozioni e quanto questi uomini si sentissero e si fossero sentiti nella loro vita più o meno liberi di esprimere un certo tipo di emozioni e ho visto molti crollare nel senso perché si sono resi conto per la prima volta cioè hanno messo a sistema qualcosa che avevano solo intuito e cioè che gli è stata tolta la possibilità di esprimere certe emozioni e questa è la radice di una serie di comportamenti aggressivi che poi possono avere nella vita adulta perché se tu dici a un bambino che non può piangere che non deve piangere e perché? perché non deve fare la femminuccia quindi perché non si deve avvicinare al femminile perché per la nostra società il maschile il femminile è considerato inferiore tu stai crescendo un adulto che non ha quel linguaggio non può esprimere un'emozione attraverso il pianto quindi come fai a dire qualcosa in una lingua che non conosci e che nessuno ti ha insegnato tu puoi parlare la lingua che ti hanno insegnato se ti hanno insegnato che la tua lingua è la forza è l'arroganza è il sopruso tu parli quella lingua lì cioè il fatto che ci siano così tanti casi di violenza maschile sia verso le donne che verso altri uomini non è come dire una spada di damocle perché vabbè sono nati uomini e ce l'hanno così sulla testa non è una questione di cromosomi per cui cioè eh vabbè il maschio cis questo è quanto non è il testosterone no no è culturale è culturale perché se da quando sei piccolo ti dicono che tu non ti puoi permettere di essere debole e tu cresci con questo dogma io non posso permettermi di essere debole e quindi ogni volta che qualcuno mi fa sentire debole io mi la mia reazione è su quella persona lì ma perché io non posso permettermi di esprimere quell'emozione e rendersi conto di questa cosa è un trauma è un trauma non c'è un'altra parola a proposito delle persone che hai intervistato come come hai scelto diciamo questo campione ci sono persone ovviamente senza dire nomi che si sono rifiutate o ci sono persone che magari sapendo del progetto hanno voluto invece partecipare allora io ho scelto di tenerli tutti anonimi intanto perché hanno raccontato cose molto anche private soprattutto della loro infanzia e poi perché sono le loro esperienze ad essere importanti non i loro nomi detto questo ci sono alcune voci che sono riconoscibili nel senso che alcune voci se segui alcune persone dici ok è lui ma io non comunque non dirò mai quei nomi come le ho scelte dovevano essere molto diverse dovevano avere background molto diversi ad esempio anche se inizialmente ho pensato di chiamare soltanto cosiddetti maschi bianchi etro cisgender no poi ho pensato che in realtà quando parliamo di uomini parliamo veramente di tutti gli uomini quindi anche gli uomini queer anche gli uomini razzializzati anche gli uomini trans e quindi ho cercato la diversità perché sarebbe stata molto utile ai fini dei racconti la prima puntata del podcast chiede quando è stata la prima volta che ti sei accorto di essere un maschio e moltissimi dicono avevo tre anni avevo quattro anni e poi arriva un ragazzo trans che dice avevo 26 anni e immediatamente tu hai un punto di vista diverso e questa cosa ti aiuta nella riflessione quindi volevo che fossero diversi in questo senso ma che avessero anche una storia di decostruzione diversa cioè all'interno del podcast ci sono uomini che hanno iniziato a leggere di questi temi da una decina d'anni ci sono uomini che questi temi li insegnano e ci sono uomini a cui io ho dovuto spiegare molto bene quale fosse l'intento del podcast perché è la prima volta che si approcciano a questi argomenti quindi molto diversi anche da questo punto di vista proprio perché tutti gli uomini che ascoltano devono potersi ritrovare nelle esperienze se avessi chiamato soltanto i professori di Harvard di questioni di genere non sarebbe servito a molto l'unica cosa ho cercato uomini che avessero già in qualche modo un rapporto con me che fosse un rapporto di amicizia che fosse un rapporto lavorativo che fosse un rapporto di amore dovevano essere rapporti molto diversi nel presente e nel passato insomma però sì avevo bisogno che quegli uomini si fidassero di me perché naturalmente per raccontare certe cose devi sentirti in un luogo sicuro sicuro a sufficienza da sapere che sarai ascoltato e non giudicato poi vogliamo dirla tutta nel mulino che volevo non dovevo essere io a fare queste domande cioè nella mia versione l'utopia era che fosse un uomo un altro uomo a fare queste domande perché si sarebbe creata una dinamica ancora diversa cioè un uomo che fa queste domande ma le domande sono pensate da una donna ok cioè quindi una struttura decisa da da una donna comunque dal femminile ma poi esplosa tutta al maschile questa cosa ovviamente non è stata possibile e quindi ho fatto io le domande che però ha creato delle dinamiche ugualmente interessanti diverse ma ugualmente molto interessanti faccio questo spoiler senza dire molto ma sto lavorando sulla seconda ipotesi ok ok allora al momento sono uscite due puntate con le prime due domande esclusa diciamo la puntata intro la puntata il pilot la prima volta che ti sei accorto di essere un maschio che hai citato anche tu prima i tuoi primi modelli maschili e devo dire che la domanda sui modelli ovviamente me l'aspettavo stavo stavo sapevo che sarebbe stata una delle prime una delle più più importanti probabilmente e mi è capitato recentemente di intervistare un fumettista trans che sicuramente conosci anche che è Percy Bertolini e devo dire che per me è stata un'intervista un po' spartiacque forse come la tua esperienza perché è stato un momento in cui mi sono veramente ho veramente percepito il mio privilegio rispetto a ciò che lui ha ascoltato per quanto riguarda le narrazioni nella sua vita e quando io gli ho chiesto di perché alcune cose non erano nella mia ingenuità no ma questa cosa potrebbe essere fraintesa nel tuo fumetto e lui mi ha detto io è tutta la vita che leggo solo cose che riguardano gli etero i cis e nessuno si è mai preoccupato di spiegarmi una cosa che non apparteneva al mio mondo e quindi perché io devo spiegare una cosa che appartiene al mio mondo agli altri e questa cosa che è molto logica a me è arrivata proprio tipo un martello in faccia mi sono detta porca miseria non ho mai capito niente tolto questo momento personale qual è stata una cosa che ti ha che ti ha sconvolto un po' sconvolta un po' in questa in questa esperienza allora non so se sconvolta però piacevolmente stupita quante cose mi abbiano raccontato cioè pensavo che avrebbero tenuto molti più segreti mettiamola così più avanti nelle puntate ci sarà ce ne sarà una dedicata alle chat tra uomini molto interessante una è stata una delle domande che mi sono mi hanno più divertita anche un po' sconvolta però anche divertita pensavo che si sarebbero tenuti qualche cecio in più in bocca cioè perché comunque lo stavano raccontando a una donna e quindi in qualche modo cioè stai tradendo il brocode per cui no cioè il fight club quello che succede nella chat tra i maschi resta nella chat tra i maschi e invece no invece mi hanno raccontato la qualunque ma persino cose che forse non metterò in puntata perché forse sono un po' too much mettiamo così però questa cosa mi ha fatto mi ha stupita ma mi ha fatto molto piacere perché significa cioè io l'ho letta come ok ti stai veramente fidando in questo momento altrimenti non diresti questa cosa non ti tra virgolette venderesti i tuoi amici anche se ovviamente io non so che siano per raccontarmi questa cosa quindi poi vogliamo dire c'è sicuramente un po' di performatività certo ovviamente e questa è una cosa che ad esempio non sarebbe accaduta sarebbe accaduta forse meno se ci fosse stato un uomo a intervistare io mi rendo conto che il fatto che io sia una donna una donna dichiaratamente femminista conosciuta anche nel panorama della teoria femminista italiana come dire un po' un po' provi a un po' mettere l'amico sul tavolo come se dice un gioco esatto capito cioè mi vendo l'amico per farti vedere che io questa cosa l'ho capita però in realtà poi hanno raccontato anche moltissime cose di loro di cui non c'è da andare fieri quindi sono stati anche estremamente onesti però questa cosa mi ha divertita molto il racconto delle chat tra uomini molto divertente diciamo che poi è una cosa di cui effettivamente forse se arrivi a un certo punto di consapevolezza da raccontarla è forse una cosa su cui hai già riflettuto o stai riflettendo in un certo modo è vero che hai davanti una donna quindi magari cerchi un pochino di appunto di vantarti del fatto di averla capita questa cosa senti invece risvolti nel pratico nel loro rapporto con gli uomini che magari ti hanno raccontato dopo o che non lo so cose appunto che con il tempo stanno provando loro stessi a parte chi lo fa di mestiere perché so che all'interno ci sono delle persone che effettivamente magari spiegano le cose agli uomini di mestiere però ecco invece qualcuno che ha cambiato il proprio modo di rapportarsi con gli amici anche attraverso magari questa cosa dei chat per esempio allora è successa una cosa che mi fa molto ridere all'inizio erano un po' come dire cercavano di raccontare a qualche amico che magari avevano partecipato a questo podcast ma erano persone selezionate sì l'ho detto a qualcuno l'ho detto solo a due o tre amici ma quelli con cui magari già ho queste conversazioni poi cos'è successo che tutti gli uomini è finito secondo nei podcast più ascoltati in Italia da quel momento è partito il allora mi scrivevano messaggi tutti loro dicendo andiamo a prenderci la coppa delle cose comunque sono sempre maschi mi ha fatto veramente veramente ridere veramente ridere cioè qualcuno che diceva no no se finiamo il primo posto io mando un audio a tutti e se ne va la capolista se ne va e quindi e quindi siccome siccome tutta Italia stava ascoltando questa prima puntata a quel punto basta hanno cominciato a dire io l'ho mandato a tutti l'ho mandato a tutti quanti ma dicendo oh io sono qua dentro questa cosa l'ho fatta pure io capito cioè diventava un orgoglio dire questa cosa qui no e forse è una leva su cui bisogna lavorare no cioè il vantarsi l'ennesima cosa di cui un uomo si vanta però in questo caso magari è utile che si vanti non lo so a me ha fatto cioè continua a farmi veramente tantissimo ridere anche molta tenerezza però va benissimo nel senso che questa cosa e ormai l'hanno detto ormai l'hanno detto a tutti all'inizio era appunto due o tre amici fidati poi sai cosa sono andato da quello stronzo che tutte le volte dicesse cosa gli ho detto tiè ascolta questo io l'ho fatta sta cosa qua e quindi adesso un sacco di uomini in più lo stanno ascoltando e col fatto che ci sia un loro amico che gli dice guarda una delle voci sono io ovviamente si mettono ad ascoltarlo ma questa opera di diffusione devo dire sta molto sta accadendo tanto e io lo vedo nella mia diciamo piccola bolla piccola esperienza che c'è stata una grande condivisione di uomini a uomini con varie diciamo poi risoluzioni qualcuno se l'ha ascoltato qualcuno ha snobbato qualcuno ha iniziato qualcuno sta partecipando alle tue call to action da un certo punto di vista perché quello che tu hai fatto è stato effettivamente poi creare un ipertesto attorno a questo podcast sia dal punto di vista dell'accessibilità quindi di metterlo su più piattaforme possibili di creare dei pdf di testo per chi ha difficoltà di ascolto e quindi insomma creare il più possibile lo spazio per ascoltare queste cose e poi anche di moltiplicare le voci e dare la possibilità agli uomini che ascoltano di rispondere anche loro alle domande parliamo un attimo di quello che ti è arrivato perché anche lì a proposito di carico mentale non deve essere stata una cosa proprio facilissima da gestire sì io alla fine di ogni puntata dico che se vanno sul sul mio sito c'è un form assolutamente anonimo dove possono rispondere anche loro alla domanda io mi aspettavo allora speravo che arrivassero tante risposte realisticamente mi sono detta sai cosa se ne arrivano dieci io mi ritengo soddisfatta ok sulla prima domanda l'altro giorno eravamo a 135 risposte che non è non è un numero allucinante di per sé se io avessi fatto un podcast sul femminile avessi chiesto alle donne di partecipare 135 sarebbe stato anche un po' un dato basso ma 135 uomini che decidono di prendersi del tempo per chiedersi quando è stata la prima volta che mi sono accorto di essere un maschio e che non rispondono con tre righe ma fanno dei saggi brevi cioè arrivano delle risposte lunghissime vuol dire che ci stai pensando veramente a questa cosa e siccome la risoluzione della violenza nei confronti delle donne non può non passare da questa presa di consapevolezza maschile per me 135 risposte che arrivano sono un dato allucinante così come è allucinante che la prima puntata sia stata ascoltata ormai più di 13.000 volte 14.000 volte non lo so è tutto allucinante in senso buono le risposte che arrivano sono mi verrebbe voglia di abbracciarli tutti e questa è una cosa che mi hanno detto anche moltissime mie amiche mi hanno detto tu stai riuscendo nell'impossibile mi stai facendo provare tenerezza per il genere maschile e sono donne che normalmente occupandosi di femminismo e quindi sentendoli di tutti i colori hanno esattamente come me un fondo di rabbia che non se ne andrà mai mentre invece questo podcast un sacco di donne mi stanno scrivendo per dire mi è molto utile perché mi sta avvicinando al maschile dopo una vita in cui pensavo che non avrei proprio più voluto avere niente a che fare con quel lato di mondo e invece mi sto ricredendo è anche vero che ancora una volta parlando di appunto carico mentale lavoro di cura la maggioranza delle persone che stanno ascoltando il podcast sono comunque ancora donne parliamo di un 70-30 quindi una maggioranza forte ci sta nel senso che ovviamente all'inizio il podcast arriva a chi mi segue e io ho un 89% di donne quindi comunque il fatto che non sia l'89% ma ci siano molti più uomini è un dato positivo ma le donne ancora una volta stanno facendo da pripista nel senso che le donne mi stanno scrivendo dicendo l'ho mandato a mio marito l'ho mandato a mio fratello l'ho mandato a mio papà certo ma diciamo che questo era appunto abbastanza prevedibile ma io credo che insomma sono fiduciosa sul passaparola anche maschile perché mi sembra che sia una cosa che si sta innescando un sistema che si sta innescando e quindi insomma sono positiva su questo e per quanto riguarda invece le domande che tu fai a parte quella sulle chat che ci hai detto anche senza spoilerare perché non voglio rovinare diciamo la cosa tu all'inizio dici che hai fatto ore e ore di interviste più o meno quanto pensi quante puntate pensi di tirar fuori e se c'è una non lo so una domanda che li ha più spiazzati delle altre anche di quelle che sono già uscite un argomento se non vuoi dire proprio la domanda beh allora ti posso dire che questo podcast ci accompagnerà fino all'inizio del 2025 ok perché sono tante domande e quindi e ci vuole il tempo per digerirle infatti anche scegliere di far uscire ogni puntata ogni due settimane è stata una scelta ponderata nel senso ovviamente non poteva questo non poteva essere un podcast che esce in blocco tipo e poi ci fai binge listening non era possibile cioè c'è bisogno di tempo il tempo del racconto e il tempo del del digerire il racconto sono due tempi molto diversi e quindi uscendo ogni due settimane andremo avanti sicuramente fino all'anno nuovo ci sono ci sono tante tante domande che le hanno spiazzati una è la prossima che uscirà quindi volendo di questa posso parlarne anche perché sto montando la puntata in questi giorni e secondo me è la domanda più difficile anche di più difficile comprensione che abbia fatto all'interno di queste interviste poi ce ne sono altre che sono difficili perché è difficile rispondere perché devi ascoltarti però la domanda in sé è molto facile questa è una domanda abbastanza difficile cioè io racconto che a me è sempre stato molto chiaro che il mondo fosse stato disegnato non a mia immagine e somiglianza dal libro di scienze che mi propone solo un corpo maschile al 22 femmine 4 maschi in classe e la profe entra e dice buongiorno ragazzi da tutta una serie di cose mi è stato molto chiaro che il mondo non è stato pensato per me e quindi io ho sempre pensato che ci fosse il genere maschile che in qualche modo fosse il neutro l'universale e poi vabbè c'ero io che facevo parte di quella costola di Adamo ed ero invece l'altro genere il genere femminile e ci ho messo molto a rendermi conto che le cose sono così perché qualcuno ha deciso di farle andare così non perché siano così naturalmente ma che il genere maschile anche quello è un genere è una categoria anche quello non è l'universale e quindi ho chiesto quando è che ti sei accorto che il tuo genere non è il genere è un genere o dovrebbe essere un genere e questa domanda ha messo in crisi tutti quanti tutti quanti e la risposta che hanno dato di più è comunque troppo tardi ok in ogni caso troppo tardi beh già questa però è una buona risposta se uno dice troppo tardi no? comunque c'è un piccolo grado di consapevolezza dai che piano piano e senti un'ultima domanda che riguarda un po' il come hanno reagito anche le altre donne tu un po' l'hai già detto però mi ricollego al tuo libro al tuo ultimo libro noi c'eravamo il senso di fare attivismo c'è stata una parte dell'attivismo che ha vissuto questa cosa come l'ennesimo spazio dato agli uomini e non ha forse capito il tuo senso oppure stavolta è andata allora era il mio timore più grande immaginavo in assoluto in assoluto non temevo gli insulti degli uomini sono abituata agli insulti degli uomini comunque non sono arrivati comunque non sono arrivati è la cosa mia un po' sconvolta non sono abituata cioè ho i DM pieni di uomini che mi scrivono per la prima volta e sono tutti ringraziamenti io non sono abituata a questa cosa zero però la mia paura più grande era che questa cosa venisse presa male all'interno del mio mondo no? ancora una volta non c'era uno spazio a sufficienza per parlare ancora dobbiamo farli parlare questa è una domanda che mi è stata posta un paio di volte all'inizio quando ho messo il box domande appena uscito il podcast un paio di persone mi hanno chiesto un paio di donne mi hanno chiesto ma non in maniera polemica veramente per capire quindi è una domanda anche posta molto bene relazionalmente non rischiamo di di dare ancora spazio agli uomini che come domanda mi sembra legittima tant'è che era il mio il mio primo la mia prima preoccupazione e quello che dico è che è vero che gli uomini hanno moltissimo spazio per parlare di tutto spesso di cose che non gli competono in questo caso stiamo parlando di una cosa diversa perché a chi lo devo chiedere quando hai scoperto di essere maschio se non a un maschio certo qui stanno parlando degli uomini di una cosa di cui non parlano mai e che è imprescindibile se vogliamo provare a risolvere il problema della violenza di genere contro le donne quindi non c'è un'alternativa e questa cosa è diventata subito molto chiara anche a chi ha avuto questo questo dubbio anche perché basta ascoltare la prima puntata per rendersi conto che non non ci sono gli uomini come dire che si fanno belli e si raccontano quanto sono fighi ne abbiamo abbastanza che sta proprio accadendo una cosa diversa quello è un racconto diverso no io ce l'ho avuto subito molto chiaro però proprio dopo il tuo libro che in effetti è stato per me molto illuminante rispetto alle dinamiche anche interne a volte anche diciamo tossiche all'interno dello stesso attivismo in tutte le sue declinazioni questa poteva essere una preoccupazione insomma giusta da un certo punto di vista invece spero che continui così grazie mille di Radio Fakeris abbiamo parlato di tutti gli uomini il podcast che trovate su tutte le piattaforme possibili e immaginabili penso che sia impossibile non trovarlo e questa è una cosa anche molto bella e grazie a te come sempre ci risentiamo presto grazie mille grazie a voi ciao ciao